Buongiorno a tutti, a tutti i terreni che ad Alfano. Oggi vi voglio dedicare le parole del professor Ferguson, docente di storia ad Harvard, che arriva a sostenere quelle che sono le tesi non della paura, ma del buonsenso della Lega, che non vuole preparare per i figli di questo paese un futuro di paura e di precarietà. Il professor Ferguson dice e sottoscrive quello che potremmo aver detto noi. Lo Stato islamico fa viaggiare i suoi verso l'Europa e dall'Europa alla Siria avanti indietro da più di un anno e la crisi dei rifugiati rende tutto questo molto più facile. Nelle nostre società ci sono terroristi impegnati a invaderci, diciamo quindi pure a rivederci all'epoca dei confini aperti e agli articoli entusiasti su come l'immigrazione può risolvere il deficit demografico dell'Europa. Vi ricorda qualcosa? C'è bisogno di 2 milioni, 3 milioni, 5 milioni, 20 milioni di immigrati per pagarci le pensioni? Prosegue il professor Ferguson dicendo che è tempo che l'Europa riconosca che i britannici hanno avuto ragione a non voler entrare nell'euro e nell'unione monetaria e hanno avuto ragione nel non voler entrare nel trattato di Schengen, quello che limita i controlli e le frontiere. Perché nessuno di questi progetti ha funzionato, quindi non siamo più soli, abbiamo il coraggio di dire quello che va detto e che tutti pensano, questa Europa così com'è che non funziona, occorrono controlli, occorrono regole, occorrono espulsioni, occorre orgoglio, occorre dignità. Io non ho paura e se stiamo insieme anche i nostri figli cresceranno con un po' meno paura. Io non ho paura.